L'omaggio L'omaggio ha due figure significative nel racconto delle bellezze della terra bergamasca, partendo da Clusone e dalla Valle Seriana. Ci stiamo riferendo a Cesarino Ferrari, editore e fondatore della rivista Orobie, e al fotografo Tito Terzi. Clusone, fino al 31 agosto, ha questo omaggio con una mostra fotografica che è distribuita in vari punti della cittadina. Noi ci troviamo sul Sagrato del Santuario della Madonna del Paradiso e poi altre installazioni sono in Piazza dell'Orologio, sul Sagrato della Basilica di Santa Maria Assunta, ancora nella Corte di Sant'Anna e infine nel Parco Nastro Azzurro. Sono punti significativi perché sono nel cuore della cittadina dell'Alta Valle Seriana, ma anche perché riassumono un po' quelle che sono state anche le espressioni in questo racconto, durato molti anni da parte dell'editore Ferrari e da parte del fotografo Tito Terzi, racconto che ha riguardato le terre alte, quindi le montagne e le valli della bergamasca, ma ha riguardato anche i monumenti, le testimonianze della cultura, della storia, dell'arte e poi anche le tradizioni e tutto ciò che riguarda la vita, il lavoro delle terre alte. Uno spaccato della mostra allestita a Clusone dedicata a Cesarino Ferrari e a Tito Terzi è proprio dedicata al grande fotografo delle terre alte, delle comunità, dei borghi, delle persone che vivono e lavorano questi territori, vale a dire Tito Terzi. E insieme a noi c'è la moglie, Adele Tavella, che ci aiuta a comprendere quello che è stato Tito Terzi nel panorama della fotografia, ma anche proprio nei suoi rapporti con le genti e i luoghi che ha incontrato nei suoi oltre 30 anni di carriera fotografica. Tito Terzi è davvero una memoria che ha saputo comunque entrare in dialogo con le persone e con i luoghi che ha incontrato. Io direi, recentemente ho riascoltato una lezione di Massimo Recalcati, filosofo psicanalista, dava una definizione di che cos'è l'uomo che calza pennello per Tito. L'uomo è quello che fa, un uomo lo si conosce dalle sue opere. Allora, io mi dico, se guardiamo le foto di Tito, noi capiamo che cos'era lui. Le foto tutte in generale, perché di solito è identificato con le fotografie di montagna. Lui non era solo le fotografie di montagna, come hai detto tu prima, lui era anche le fotografie di gente comune della vita di tutti i giorni. Io credo che, adesso forse è un po' di parte, ma abbia saputo trasformare quello che è astratto, un sentimento, un pensiero, un sogno, un desiderio, un'emozione, nel concreto. Io faccio un esempio, c'è esposta una fotografia, un paio di fotografie ci sono, che fanno parte del testo, del libro Oltre la realtà. Ecco, Oltre la realtà era, lui fotografava qualche cosa che vedeva nella realtà, un ghiaccio, un pezzetto di ghiaccio, labrina, gli dava un'emozione e questa emozione veniva poi trasformata in immagine. aveva un progetto sempre, non andava fotografando quel che gli capitava, preparava un progetto a casa, il progetto di suo, sempre un obiettivo, per arrivare a quell'obiettivo lì lui faceva un programma, programma non è progetto e a mano a mano questo programma portava ad arrivare alle sue opere. Attraverso le sue opere conosciamo Tito Terzi. Direi così, la gente vedrà e giudicherà. Lo conosce attraverso le fotografie, lo conosce attraverso anche i libri, che nel connubio poi con Cesarino Ferrari ha portato proprio a questa vasta produzione editoriale e anche poi alla nascita, nell'agosto del 1990, della rivista Orobie, tradizione che continua fino ai giorni nostri, con oltre 30 anni di racconto, prima della realtà bergamasca e poi di tutta la Lombardia. Ecco, ma ricordiamo che appunto dietro uno scatto, dietro un'immagine di Tito Terzi c'era un grande lavoro di ricerca, innanzitutto delle luci, delle atmosfere che lui aveva già in mente di fotografare. Sì, allora, seguire Tito quando fotografava era da sconsigliabile, perché, allora, si metteva in un punto, prendiamo in un punto in montagna arrivati alla meta di una gita. Allora, il sole doveva essere lì, l'ombra doveva arrivare fino qua, le pecore dovevano stare là. C'era una concomitanza di eventi, di situazioni che difficilmente si verificavano contemporaneamente. Allora, aspettava questo, prima questo, poi quello, poi quello, se poi tutto quello che lui desiderava non andava al suo posto, lui non scattava. Questo per dire che non fotografava a caso. La ricerca era perché non gli piaceva, non si faceva. Voleva fotografare una volta la luna che sorgeva dietro al Monte Redondo, è andato una sera, la seconda sera, la terza, l'aluna non si è lasciata fotografare e l'aluna non l'ha fotografata. Ed è finito così. Scrupolosità che si ritrova anche nella selezione delle immagini e nei tagli delle fotografie per i libri. E qui entra in gioco poi l'alta qualità della stampa e della realizzazione da parte della casa editrice Ferrari. E quindi, davvero, quando si sedevano a un tavolo di lavoro Cesarino Ferrari e Tito Terzi, diventava un bel dibattito, una bella tavola di discussioni. Sì, riconosco e riconosceva Tito sempre il merito che Cesar gli dava carta bianca. Lui faceva quello che voleva e procedeva nel suo lavoro. Poi c'erano i figli e poi c'era Monica che non dobbiamo dimenticare. Monica Seminati che tuttora fa parte del team di Orobia. Tito traduceva tecnicamente quello che Tito non sapeva tradurre tecnicamente e completava l'illustrazione, il lavoro, insomma. Abbiamo parlato di quanto tempo ci volesse per trovare appunto la situazione ideale nelle immagini di Tito Terzi, ma poi anche la difficoltà di entrare in dialogo con gli abitanti, i lavoratori, insomma, delle terre alte. Perché lui arrivava a primo, chissà, per quanto riguarda le fotografie, a documentare queste situazioni, arrivava trovando sicuramente diffidenza. Molta diffidenza, c'era tutta una tecnica d'approccio particolare. Prima arrivava il cane, non si vedeva nessuno. Poi arrivava il cane, il cane gli andava incontro. Gli faceva due complimenti e poi come va? Poi dopo spuntava la prima testa dietro la porta, poi la seconda, poi come ala, come ala, e da lì cominciava la conversazione e loro raccontavano e si lasciavano mettere in posa. Qui in questa foto si vede bene, insomma. Era questo il suo modo. Non ha avuto mai difficoltà nell'avvicinarsi alla gente comune, agli abitanti delle montagne. Lui, quando ha ricevuto la benemerenza civica, è proprio questo che ha citato. Per il suo amore per la terra bergamasca, per gli abitanti delle zone alpine. Un ultimo riferimento con la signora Adele si riferisce a dove si trova ora tutto questo patrimonio, questo archivio di immagini e di emozioni. Fino al 31 agosto è possibile vedere alcune di queste immagini per le vie, per le piazze di Clusone, altrimenti, oltre che sfogliando la collezione della rivista Orobie, tutto questo lo si può trovare al Museo della Fotografia di Bergamo. Allora, è il Museo delle Storie di Bergamo. All'interno del Museo delle Storie di Bergamo c'è la fondazione fotografica Sestini. Tutto l'archivio è depositato presso la fondazione Sestini. Stiamo parlando di migliaia e migliaia di immagini. Allora, io per conto mio ho lavorato su 45.000 immagini diapositive, trasferendole dai vecchi contenitori in quelli a norma, ma questo parlo solo di diapositive. Poi c'è tutta la parte, un'altra parte, sempre diapositive, e un'altra parte, tutta quella del bianco e nero, sono sì, migliaia. E davvero, nel ripercorrere queste vie di clusone con le immagini di Tito Terzi, tornano davvero queste emozioni nel vedere i luoghi, ma soprattutto anche i volti che hanno incontrato l'obiettivo e lo sguardo di Tito Terzi. Direi che sì, c'era una duplice funzione, chiamiamola così, anche se un po' impreciso. Secondo me Tito si sentiva al tempo stesso spettatore, ma anche tassello di quello che lui vedeva nella natura. Lui guardava, ma lui era dentro al panorama. Questo secondo me gli dava la possibilità di fare quel passo in più che l'ha reso così sensibile al lavoro che ha svolto. Insieme a Ruggero Meles, collaboratore della rivista Orobie, ma anche alpinista, scrittore e figura davvero impegnata su tanti fronti, affrontiamo invece il discorso di Tito Terzi, ma anche di Cesare Ferrari, dal punto di vista della divulgazione. Quindi dalla rivista, la rivista Orobie, nelle mie mani, c'è proprio il primo numero di quell'agosto del 1990 a cui prese parte Tito Terzi nella realizzazione con Cesare Ferrari come editore e poi anche con i libri. E tu, Ruggero, hai tra le mani il primo libro, quello realizzato nel 1975 con inevitabilmente la storia di Clusone raccontata attraverso la documentazione di Don Nicola Morali. Ecco, Ruggero, davvero una presenza importante, quella di Cesare Ferrari e di Tito Terzi, sul fronte della valorizzazione del territorio dal punto di vista della divulgazione dell'editoria. Ma furono molto coraggiosi. Fu una scelta coraggiosa perché l'editoria di montagna negli anni 70 era ancora molto centrata sulle grandi imprese, le grandi spedizioni del CAI, allora che andavano in Himalaya o da altre parti, o comunque l'aspetto sportivo. Scegliere di cominciare a parlare anche di una montagna viva, di una montagna fatta di alpeggiatori, di una montagna che era sopravvissuta alla crisi degli anni 60, fu una scelta molto coraggiosa. Prima, il primo titolo, Olsere. Certo, la prima pubblicazione fu appunto Olsere che raccontava proprio questa terra, per poi appunto evolversi ed arrivare a Orobie. e prima anche il titolo stesso Olsere stava a indicare una piccola parte e mano a mano invece Orobie, adesso anche con te, è arrivata ad avere una visione dell'intera Lombardia, del paesaggio sia di montagna che di pianura. Ma c'è un sottotitolo nella prima o numero della rivista che diceva, una rivista che spiega dalla montagna alla città. E quindi questo legame fortissimo, e Orobie ha contribuito e contribuisce nel corso degli anni proprio a avvicinare la città alla montagna, e la montagna alla città, ma non con una logica di parco giochi, ma con una logica di conoscenza profonda, con una logica di capire, capire il paesaggio, capire la storia che l'ha generato, e quindi non soltanto un posto dove andare a correre, dove andare a sciare e basta, ma qualche cosa di più. Ecco, dalle pagine dei libri, dalle pagine della rivista, c'è innanzitutto lo sforzo di far comprendere agli abitanti il valore di ciò che hanno attorno, e anche una documentazione estrema, perché sfogliando questi libri si hanno per esempio testimonianze sulle tradizioni, sui costumi intesi anche come sugli abiti tradizionali, ma per esempio anche sulle pitture murali che erano presenti nei borghi, e quindi davvero una documentazione che va ad arricchire anche la parte storica e di analisi culturale di questi territori. Certo, il coraggio è proprio questo, lasciare i grandi protagonisti della montagna sportiva, oppure lo tenendo in secondo piano, e andare a scoprire che ci sono borghi, dove ci sono quadri del Moroni, dei Baschenis, dove c'è una testimonianza di un periodo in cui la montagna era ricca, la montagna con il commercio della lana, del legname, e i primi a intuirlo che c'era un gioiello da far conoscere prima di tutto agli abitanti, e poi agli abitanti di Bergamo, e poi ad l'intera Lombardia, fu la loro grande intuizione, davvero due capitani coraggiosi. Due capitani coraggiosi che poi hanno tracciato un solco che molti altri hanno seguito, ma che Orobie da oltre 30 anni mantiene la sua rotta, perché diciamo che sicuramente la qualità delle fotografie, ma anche questo racconto del territorio, del turismo di prossimità, vogliamo chiamarlo riscoperto negli ultimi anni, ecco, sono tutte caratteristiche che da sempre ritroviamo in questa rivista. Prima con un taglio prettamente bergamasco, e poi strada facendo, con il coinvolgimento anche del gruppo editoriale Sesab, ricordiamo anche i direttori, Giuseppe Zois, Paolo Aresi, Pino Capellini, lo stesso Cesare Ferrari che si alternò alla guida della rivista, ecco, dicevo, continua però questi elementi, che continuano a caratterizzare Orobie nel racconto che facciamo ogni mese, utilizzando poi adesso anche gli strumenti moderni della televisione, dei social. Quindi sì, un omaggio a Tito Terzi, a Cesare Ferrari, nel luogo dove tutto questo è partito, direi che era doveroso. E anche una constatazione che non è stato tradito il loro messaggio, ma che continua a distanza di 30 anni, e di questi tempi non è facile che le cose durino 30 anni e che spero che durino altri 30 anni. Nella tua carriera, Ruggero Meles, nella tua carriera appunto di alpinista e di scrittore, qual è l'aspetto che, tra virgolette, maggiormente ha invidiato nella carriera di Cesare Ferrari e di Tito Terzi? Ma io ho la capacità imprenditoriale di partire con coraggio con questa scelta e di capire che le montagne non sono soltanto... Anzi, col passare degli anni, anche da tale età, le cime interessano sempre di meno e invece interessa di più la terra che scende dalle cime e chi la abita. Grazie, Ruggero Meles. Orobi è abituata ad andare a passo lento, lungo i sentieri, lungo i cammini, all'interno dei borghi o per le vette lungo le vallate e il consiglio è anche quello di compiere appunto a passo lento i borghi, sì, delle nostre valli, ma in questo periodo le vie e le piazze di Clusone per rivedere all'interno di questa mostra dedicata a Cesare Ferrari e a Tito Terzi, rivedere situazioni e anche personaggi che sicuramente ci accompagneranno ancora a lungo. Una delle sezioni della mostra fotografica allestita a Clusone su Tito Terzi e Cesare Ferrari è allestita sul sagrato della Basilica di Santa Maria Assunta proprio sotto i portici dell'Oratorio dei Disciplini e qui c'è uno spaccato dei borghi della Bergamasca da Catremerio in Valle Berenbilla alla rievocazione storica al passo San Marco con gli standardi proprio del Leone di San Marco ma poi all'interno della galleria fotografica incontriamo ancora altre situazioni per esempio il rifacimento dell'acciottolato a Catremerio oppure l'operazione di togliere la parte non utilizzabile delle pannocchie a Barzana e ancora una situazione rurale con due anziani in una delle dimore di Catremerio per arrivare poi alle tradizioni più vive che alcune delle quali ancora oggi vengono mantenute nelle nostre comunità per esempio la processione del Corpus Domini a Gandino con il solenne apparato coreografico o ancora la processione del Madunu a Dossena in Valle Brembana ma sono anche queste fotografie che documentano come erano conservati i dipinti murali qui siamo a Branzi e alcuni bambini stanno giocando proprio sotto un bellissimo dipinto dell'Apocalisse situazioni che rivivono in questa mostra ma che soprattutto ci fanno tornare alla memoria i bellissimi scatti che Tito Terzi è mortalato nei suoi oltre 30 anni di attività fotografica ed è proprio la terra di Clusone che rende omaggio a Tito Terzi a Cesare Ferrari terra di Clusone rappresentata dalla sindaco Massimo Mostabilini questa mostra che nelle vie nelle piazze sul sagrato della Basilica sul sagrato della Chiesa del Paradiso e poi negli altri luoghi ricorda due figure significative che hanno fatto tanto per la valorizzazione di questi territori assolutamente sì finalmente ci siamo la vediamo qui esposta resterà esposta appunto per tutta l'estate di fatto nelle vie e nei luoghi simbolo della nostra bella cittadina un festival della montagna che come abbiamo avuto già modo di ricordare ha dei valori serve anche per riscoprire quei valori di identità forti che noi abbiamo e per darci consapevolezza di questo e come farlo se non attraverso queste due figure nel ricordo di queste due figure importanti che sono stati appunto Tito Terzi e Cesare Ferrari che tanto hanno fatto tanto amore hanno dato per il nostro territorio e quindi con questa mostra veramente stupenda fatta di immagini che lasciano a bocca aperta quindi è veramente una mostra importante all'insegna appunto del ricordo e della valorizzazione di queste due importanti persone che hanno dato tanto al nostro territorio e noi dobbiamo sulla loro scia sulla loro orma continuare in questa direzione Il valore di questo allestimento è sì il ricordo la memoria e la testimonianza che arriva dal passato ma è anche la via che è stata tracciata quella proprio di trovare la ricchezza che abbiamo attorno a noi e che in maniera molto familiare diamo per scontato e invece dobbiamo saper cogliere quanto di bello ci circonda Assolutamente sì loro l'avevano ben presente io parlo anche e soprattutto di Cesare Ferrari che ovviamente era un clusonese doc e che ha fatto tanto non solo per il territorio ma anche soprattutto per Clusone loro avevano questa consapevolezza di quanto sia bello il nostro territorio di quanto siano profonde gli ideali che caratterizzano la nostra gente e questa mostra e il festival della montagna più in generale a noi deve servire proprio a questo a darci questa consapevolezza perché spesso come dicevi tu diamo per scontato tante cose ma effettivamente non sono così scontate o quantomeno chi viene per la prima volta qui resta allibito bocca aperta veramente stupefatto di quanto belli siano i nostri territori e soprattutto di quanti valori e di quanto le persone che vivono questi territori abbiano da dare un aspetto che non abbiamo ancora toccato ma che merita di essere sottolineato è quello del canto e quindi abbinato a Cesare Ferrari c'è sicuramente il nome coroidica il coro italiano di Canti Alpini che aveva a Clusone il suo cuore pulsante che aveva in Cesare proprio questo motore straordinario beh sì il coro idica per noi clusonesi è un pilastro un'icona proprio fondamentale loro tanto hanno fatto in questi oltre 65 anni di attività tanto continueranno a fare adesso anche su quello che Cesare Ferrari ha lasciato come eredità e che adesso Simona Visinoni sta portando avanti ovviamente insieme a tutti i suoi coristi il coro idica è stato da sempre ambasciatore di quegli ideali di cui si parlava anche prima in tutto il mondo ha portato il nome di Clusone del territorio ha portato i valori alpini montani del nostro territorio in un po' in tutto il mondo e questa cosa l'ha sempre fatto poi lasciando un grandissimo segnale segno dove è andato per cui ci ha fatto una grandissima pubblicità e ci ha dato anche un bel esempio bene quindi l'invito che vi forniamo è proprio quello di venire a visitare Clusone approfittando della mostra dedicata a Tito Terzi e a Cesare Ferrari mostra dedicata a questi personaggi che con le fotografie e con il loro impegno sul territorio hanno davvero dato tanto quindi un'opportunità in più per visitare le bellezze che ci circondano che ci circondano Grazie a tutti.